Bentornati su Pokémon Ypsilon, in questo episodio continueremo per la strada 10 perché a quanto pare là dobbiamo andare Eeeh si, comunque prima di questo, allora, so che Snorlax non lo userò, però per una cosa lo posso usare Per finire il percorso di allenamenti speciali eccetera eccetera, tanto per vedere se si sbloccano gli allenamenti successivi Quindi vorrei farlo tanto per vedere com'è Aumenta gli evitati speciali con Tentacool Mi preoccupate ci metterò poco, non ci sto a 3 anni solo per fare una cosa qua Ok via, si, 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 suggerimento inutile, vai Tanto vado per quello centrale perché sta fermo, vedete? Boom! E praticamente quasi in un colpo l'abbiamo fatto andare via E ho fatto anche bene tecnicamente perché la difesa speciale è una cosa alta di... di... come il cavolo si chiama? Snorlax Un sacco di difesa speciale è L quindi tanto per dire Ok, eccoli qua di livello 2, però non li faccio adesso Evite tiri, ricerca magnetone, altre 5 Questi li faremo ovviamente più in là, però fortunatamente adesso li ho sbloccati Quindi volendo li posso anche fare off screen per aumentare la potenza dei miei Pokémon Allora Muramasa è il primo ovviamente perché ha bisogno di tanto di quell'allenamento che non vi immaginate Ha lagato, vero? No, non ha lagato, almeno non spero Comunque vai, continuiamo, facciamo una pirouetta Weee, e andiamo Allora, si va Voglio cercare strumenti, dai C'è qualcosa di nascosto? No Però noi continueremo l'avventura e tu sei una che voglio sfidare, dai Sono semplici pietre, vero? Ehm, i sassi che ci sono sullo sfondo Oddio, sta turista Quanto è brutta Vabbè, poi sono... Gosto di che se la sposa Comunque, ecco qui, Skiplum Spero di non fare un casino Furtiva ombra Ok, va bene, dai Ah, paralizzante Sta bega Ma perché devo usare i miei paralizzante? Che brutta mossa paralizzante Solo quando te lo usano addosso a te, però A parte che il tuo mondo è meglio Vento di fata Un attimo Tu sei di tipo fata? Ehm No, tu sei di tipo erba volante, giusto? Però impara mostri tipo fata Vabbè Adesso lo sappiamo Muramasa 22 Muramasa vorrebbe imparare E me lo chiedi? Cioè Ma subito Cioè Neanche tre secondi Ce l'aspetto Ero assalto Ero assalto è una cosa che devo imparare per forza Anzi Scemo io che non glielo ho ancora insegnato Continua a lottare, dai Testers Non mi devo stare sbariglio perché sono già paralizzato Quindi non posso usarlo Posso usare forza antica ma non è molto efficace Però aumenta tutte le statistiche ovviamente Perché sono sfigato io Ding Mi sa che c'è un po' troppo di axe Dappertutto qua Ah, dannazione Non essere paralizzato Ho appena detto non essere paralizzato Ciccio Forza antica Ma è speciale, vero? Brutto colpo Oh Anche io brutto colpo Bene Per una cosa vorrei sapere Oh, ha una zoomarill Dannazione Vai con No, che bluscio Scusate Iskandar Comunque sembra che Snorlax Non serva Più così tanto In ogni caso per ora Lo lascio Pugno spine Bam E rimetto il condito di esperienza Sti gran cavoli Se sale Snorlax Di qualche livello Ding Tadadà Anche se Non mi dava fastidio Mi dava più fastidio Bidoth Che si Prendeva l'esperienza Sì, sono pietre carissima Ok, un attimo che Attivo il condiv... No Attivo il condiv... Di esperienza Snorlax ha trovato Attacco speciale Ah, allora vai Vai con... Questo, vero? Sì Vai con Lizard O anche almeno Attacco speciale Ora L'ho attivato Però è paralizzato Quindi fatemi curare Io ho una pietra foglia Non posso, vero? Non ce l'ho Ah no, ce l'ho un antipar... Ho quattro antiparalisi E una pozione Fatemela usare con lo stilo Che almeno fa meno rumore Ok Adesso con davvero Continuiamo con il Kosova Ok, altri po... Oh, strumenti, strumenti Lastramente Ci sono le lastre In questo gioco Dai, intanto aiuto A picchiettare il Kosova Al ciccio, dicevo A Lizardone Comunque Eeeh Ah Emolga Non che non mi piace Emolga Per carità Ma è odiosa Odioso in generale Emolga Non mi piace Non di aspetto Ma di quello che fa Ok, il Kosova dovevo controllare Niente, andare avanti Eeeh Forma smagliante Ui, 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 ui E attacco speciale più uno Questi piedi sono impressionanti Pare che mai diano qualche tipo di energia Me lo disse Acromio? Non è per caso quello di bianco e nero 2, Acromio? Penso proprio di sì In ogni caso Siamo qui nel percorso 10 Che non è dolce in gabbana E precisione X Quindi questo percorso è famoso per le pietre, vero? A questo punto fatemi fare una fotografia vicino alle pietre La faccio adesso Non vi preoccupate Tan tan Gollet È verde E' del tipo spettro Io lo catturerei, va? Non mi chiedete il motivo Ma voglio catturare Gollet Tanto per Aia Tanto per un motivo Ehm Ossia del fatto che il mio amico odia Gollet Quindi vai Pokeball Vediamo se riusciamo a catturarlo Vai Gollet E poi ho deciso di provare a catturarli quasi tutti quanti Insomma quelli che mi piacciono li catturo, dai Ehm Gollet Catturato Tan 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 Che poi non è che l'ho catturato tanto per metterlo nel timo alto Ma perché è verdognolo E perché questo mio amico lo odia Quindi Terra spettro è Argilla Vivivo mille anni fa No, non lo voglio dare nel soprannome E appena abbiamo l'esperienza tutta quanta Non mi interessa, dai Però lo tengo di squadra Oh, strumenti, strumenti, strumenti Dov'è? Eccola qua Antiparalisi E c'è anche un altro strumento qua vicino allora Perché vedete il coso si è illuminato l'altra volta Ok, è là dietro Mmm Uh Team Flair Ma tu sei proprio che era un calcino pestifero Per tutti i fossili fossilizzati, liofilizzati e surgelati Senti Ma tu lo sai che queste pietre sono qualcosa fuori dal comune? Beh, infatti non sono in città Oh Pare che più di 3.000 anni fa Aspetta, no, com'era la storia? Bah, lasciamo stare Piuttosto ne approfitto per una veridincita in grande stile Oh yeah Amo la musica del Team Flair Meno i loro Pokémon Soprattutto perché sono le tipo a Fuoco Però potremmo andare Già che ci stiamo iscando No, che sto dicendo iscannar Lizardone Anche perché Non lo uso da anni Lizardone E anche se Aundor avesse Flashfire Che adesso mi sfugge il nome In italiano Scusate Sì, mi sfugge il nome in italiano Focardore Mi sembra che si chiami in italiano Comunque è l'ora di Drago Quindi Bam Cansi Ok, dai Alla fine dobbiamo allenarci tutti quanti Quindi Dai che tra poco Devo scoprire dove si prende il Pokémon Che voglio io Per Di tipo Drago Almeno così lo metto nel mio box Blue Shield Blue Shield Sta diventando una Belvara Per tutto E qua Golbat Vai Muramasa Dai Al massimo che cosa ci può fare Confonderci Perché l'ho detto Adesso mi confondi di sicuro Ciao Golbat Avevo ragione No Sgomento però Dannazione Sta roba è super effic Oddio È super efficace Ci ha fatto Malissimo Ah è vero Non ha più Non resisto E che pizze Con sto rantenamento Però eh Allora No Non baccarancio Super pozione Ne ho comprate abbastanza apposta La cosa bella è che Tra poco dovremmo incontrare Qualcuno che ci vende Qualche strumento di recupero Che non si hanno Super pozione Io lo sapevo che Musava stordiraggio Vabbè intanto Si friscerà solo Da bidorso elmo Noi continuiamo Proviamo con Furtivombra Tanto per Vai E si confriscerà solo Sgomento Comunque è meglio Se usa sgomento Al posto di morso Perché mi sembra Che abbia meno efficacia Sgomento Di morso Non è più confuso Furtivombra Attacco d'ala Che fa ancora meno Perché non resistiamo Che bello Finire con bidorso elmo Adoro Questa cosa Più di tutti Adoro Quando Tipo si hanno Iron Barbs E bidorso elmo Insieme Iron Barbs Era Ferrospine Mi sfugge Ho perso Ma c'è stata sconfitta Con stile Oh yeah Abbiamo gli occhi verdi Come miei Alla fine mi voglio Anche fare la pettinatura Quindi quando Ritorneremo Se ritorneremo A Luminopoli Adesso sei un allenatore Straordinario Mi rifarò Il taglio dei capelli Bene L'Ovalox È un dispositivo Che definirei Non più sultra Dello stile Pensa che mi avvisa Quando ho una nuova missione Chiun che l'abbia costruito Deve avere davvero Stile da vendere Ossia Elisio Ho detto questo Me la batto In grande stile Naturalmente Stai camminando Non è in grande stile Ok Ho altre sacche Per caso Di veda speciale Velocità Velocità Che è veloce Delle nostre Mi sta solo Lizardon Vai con la sacca Velocità Dai C'è uno strumento qua Oh Orda di Pokemon Orda di Nosepass Nosepass Mi ricordo che in Pokemon Ranger C'era uno che adorava Pokemon Ranger 2 Adorava In Nosepass Ne voleva uno Tipo Qualcosa del genere Potrei anche farlo come Let's Play Sapete Pokemon Ranger Però non lo voglio fare Perché Sarebbe difficile Registrarlo Soprattutto con Il 3DS così Perché non uso emulatori L'ho detto 5 volte Non uso emulatori Dannazione C'è ancora qualcuno Che mi scrive nei commenti Che emulatori usi Come ti fai a funzionare la ROM Non è una ROM Il gioco originale Non uso tanto l'emulatore Ok Ora Spero di riuscire Ad arrivare là Però voglio un attimo Controllare Gollet Quanto Come è fatto Oh beh Aumenta l'attacco Però devo essere sincero Tutti i Pokemon che trovo Che a parte Zorlax Sono di buone nature Tipo Gollet Gollurk Con attacco aumentato È Buono Ma adesso Evitiamo di pensarci Va Sbagliato Voglio usare Questo Pozione E adesso Continuiamo il percorso Sperando di incontrare Strumenti e allenatori Più sei vicino A Cromelburgo E questi pietri Diventano numerose Cromelburgo È una città Vero Tu sei un allenatore Però C'è qualcosa In questi pietri Che amplifica I miei poteri Tan 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 Adriano Cavopalestra Medite Cioè volevo dire Meditate Tanto abbiamo Aereoassalto adesso Non abbiamo De più preoccuparci Vai con Aereoassalto A individua Perfetto Tanto per Allungare Il fatto che Dobbiamo Correre Perché voglio andare Nella prossima città Esplorarla anche Possibilmente Non confondermi Ok È un assalto È così Figo Adoro Kirlia Abbiamo Furto di Ombra Quindi Siamo a posto Ah no Aspettate un secondo No è vero Ah Annulo difesa Quindi Non cambia niente La cosa È di tipo Anche folletto Mi sembra In questa generazione Però è super efficace Allo stesso Quindi Bono Ok Snorlax al 16 Ma non ci interessa Perché non lo alleniamo Per tutto Il mio potere È troppo grande Sfugge al mio controllo Quindi Non è tuo Perché Eccolo delle pietre No Questi pietre Hanno qualcosa di strano Secondo tutti Quelli che lo dicono Ancora con questi Gollet Gollet Scusate Non gollet Con una sola L Ok Dai Andiamo verso il basso Dimmi che non incontro Pokémon seravatico Perché voi vedete Ci sono strumenti Abbiamo incontrato Un Pokémon seravatico E non ci sono strumenti Sigilif L'ho usato nel mio Nespre di Pokémon bianco È decente Come Pokémon Vediamo quanto Vi facciamo con Furti Vombra Mi ricordo che è Abbastanza Resistente Come Pokémon Ah bene Anche tanto Psico Onda Psico Onda Psico Psico Vai con aria Assalto Non voglio mandarlo A K Però È più veloce Di me Sono di tipo Acciaio Però Uff No facciamo fuoco Dai Non voglio tornare Al Pokémon Center Quindi Mi resuscito Il coso Qua da me Ho un revitalizzante Vai Non riesco Allora Ok Non riesco a giostrarmi Con lo stilo Dovrei usare I pulsanti Ok Dai Allora Piano Ok Vai Ce l'abbiamo fatta Quante volte ho detto Ok Vai Invece ho schifo Da solo Ecco qua La pietra tuono Ok Vi ricordate Nel scorso episodio Quando vi ho detto Che forse avrei messo Eevee in squadra È proprio per Pietra tuono E quindi avete già capito Che Pokémon Avrei Ipoteticamente In mente Perché Joltion È un Un figo Wow È il ragazzino Questi sono quasi da grandi Non devi metterti in mezzo Inoltre può aiutare A catturarci i Pokémon Quindi con il tuo Nonda Electrike Buona cosa E ancora devo vedere Nel Pokémon Poké io e te Come Muramasa Perché ho un po' Di paura Di vedere Come dobbiamo Accarezzare una spada Considerando che Vi ricordo che Se non erro Chi tenta Era scritto nel Pokédex Chi tenta di afferrare L'Elsa Della spada Viene stritolato Dal Dalla fascia blu O qualcosa del genere Brutto colpo Ok Muramasa sta Essendo buono Come Pokémon Pensavo molto peggio Ok E c'è gente Che urla di là Crogank Abbiamo il rassalto Ciccio Presagio Farà brevidire Crogank Ah Siamo arrabbiati La spada Arrabbiata Ok Adesso voglio Tanto per ridermela Voglio vedere Com'è il Poké Io e te Con Muramasa Oh vabbè Tanto dopo Non si può più lavorare Vabbè Non lavorare più Allora Prenditi una pausa Di 20 anni Tipo Poi non avrà la pensione Quindi Pace Allenatura Allenatori Sì allenatori E' davvero incredibile Le cose riuscivano a fare Gli antichi Anzi Forse è meglio Ridire di Pokémon Dell'antichità Beh Io ho ancora Ricerca strumenti Ma non trovo Pokémon Tu esamini le pietre E io esamino te Mi piace un casino Questa musichetta Go Al massimo qua ci può Se non ho sbaglio Addormentare Perché l'ho detto Perché c'ha sbagli io Però Non penso che lo usi adesso Se mi permettete Io adesso berrei un sorso di tè Che sto morendo Intanto Danza spada un paio di volte Ah no Mi è stato ripeti Apriti Tè Ok Scusate ma sono Leggermente Disidratato Oggi Mi spiace per queste Mie mancanze Aereo assalto E' un brutto colpo No Tu continui ad aumentare D'reatività speciale Tanto a me non interessa Tu sei scemo Perché io sono Un attaccante fisico Adesso Anzi difensore fisico Però sarebbe bello Se imparassi che io Tina eh Lizardone al 27 Gollett al 21 Ma non ci interessa Perché non è nella mia squadra Vabbè impara pure Megapugno Tanto Che impari Tolgo ferro scuro Tanto non lo uso Gollett Tadà E Paratatà Abbiamo sconfitto La recluta del team Flair Il ultimo del mio esame Che sei più forte di me Abbiamo vinto Pochi soldi Devo trovare Il moneta Mulleto Se sapete dove si trova Ditemelo per favore Che Così non abbiamo più problemi Monetari nel gioco Tanana 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 Ok 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 Magari Sei una turista Potevano farti più secca Però mamma mia Fujiko Quanto è carino Drifloon Ok giuro Che non mi interessa Questa parte Quanto Dura Aia Cioè che bella animazione Più che altro Però Prima Della fine Della parte Dopo aver esplorato Anche la prossima città Se è possibile Esplorarlo ovviamente Voglio assolutamente Vedere Il Poké Io e te Con Muramasa Perché secondo me Esilarante La cosa Ok Ippopotas Ippopotas Beh Iskandaro ovviamente So il pugnospine Anzi mi sa che lo provo adesso Il Il Pokémon Ami Pokémon Io dico Pokémon Ami Perché questo è il nome giusto Poi gli italiani Che sempre Storpiano queste cose Anzi più che altro direi Comunque grazie per il team italiano Di averlo tradotto Però potevate lasciare Il Pokémon Ami Di aver tradotto il gioco Intendo Però Potevate lasciare Il Pokémon Ami Questo lo concedo Come potevano lasciare Il Registeel In Pokémon Platino Che non fa Un saluto nazista Perché si Alcuni dicono Che quello Fosse un saluto nazista Ma Non è vero Non è assolutamente così Ok Paci pa Lagga un po' Ma è il gioco Vero Vabbè se facciamo battiterra Dovrebbe laggare di meno Mi sa che è il filtro Della terra in pesta Che fa Questo effetto Peccato Ting Blucio al 30 Ufficialmente Non dico nient'altro Perché Blucio è già una belva Così Snorlax Non ci servi Ti ho portato per forza Ma no No Che cos'è Insidia Anche se ho perso Mi è piaciuto il modo Bla 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 Ok Ora ci stiamo mettendo Un bel po' Tuo eh Carissimo Eccolo qua Eccola Supermossa E aumenta un po' La velocità Ora vorrei vedere Il Pokémon Amico Con Io ancora Voglio dire Con Pokémon Amico Ok dai Dai fammelo provare Chi è questo? Di Andrea Sì Un amico mio Che sta usando Che gioca E questa è la Maura Di un'altra persona Sempre mia Ok vediamo com'è Dai Carissimo Oddio E' mezza impressione Allora Vediamo l'Elsa Mi devi stritolare No? Ah Quanto pare Non mi stritola C'è gente che bussa La porta Vediamo Onege No Ok Non mi fa niente Dai Non sto torcendo La testa Carissimo E' un po' strano Vederlo nel coso No Non voglio giocare a niente Ti do un pasticcino Perché mi va Come fai a mangiare? Come fa a mangiare? Non ha la bocca Vabbè non importa Volevo solo vedere Se estraeva la lama O no Questo era l'importante Da vedere Torniamo al Super allenamento E andiamo avanti Siamo arrivati In una città Chiamata Cromel Cromelburgo Qualcosa del genere Ok Lo esploriamo E poi stacco L'episodio Non mi preoccupate Mi fai entrare Questo è l'hotel Quindi qua forte C'è il mister Fratellanza Benvenuto all'hotel Neve Neve marina Ma io ti conosco Si tu vieni da Bergobuzzetto Come fai a conoscermi? Ma il tuo pokemon È un one A me piace un sacco Sono felicissima E incontro Se invece Ok Buongiorno Furfrù Ok dai Controlliamo Se c'è davvero Mister Fratellanza Qua dentro Una È la mia prima vacanza Dopo tanto tempo Sembra tranquilla La cittadina Quindi potresti stare Tranquilla appunto Mister Fratellanza Ehi Ci si Rivede fratello Stop Mister Fratellanza No Non me lo devi spiegare Dammi il potere O Mi sa che comincerò ad usarli Si Li comincerò ad usare Velocità 1 Indovina Aumenti la velocità Ok Proverò Farò qualche test Con i poteri I poteri O Perché non so Cosa servono Più che altro Però Allora Onege come è messo In tutte quante le statistiche A parte che Azur Merrill Dovrebbe svegliarsi un po' Onege È portato per la difesa Dannazione Io lo vorrei portare Pure per l'attacco Però non so Quanto è messo bene In attacco Onege C'è ancora Ricerca strumento attivo? Ora si Allora Ci sono tante pietre Qua dentro Oh Un membro del team Flare Voglio un attimo Vedere se lo posso Sconfiggere E poi stacco All'episodio Vero che lo posso Sconfiggere? Sì E c'è una pokemon All'adietro Lo sapevo Cromelburg La città delle pietre Lo sapevo che c'era Uno strumento là Lo prenderò Con la mia bicicletta Perché faccio prima Timer ball Può servire Soprattutto con i pokemon Logoranti Che usano Ripresa ogni due secondi Parlando di pokemon Selvatici Ok Tu sei Come dici Non c'è altro Oltre le pietre No 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 Non capisci Però in questa città Non c'è altro La bellezza delle pietre Risalta ancora di più Quindi in questa città Non c'è nulla Anche le informazioni I suoi momenti Che hobby è sofisticato Mica sono andato Con la bicicletta Vero ok Per una Per qualche ragione Se un pokemon A pietra istante Non è in grado di evolversi Io ho tante Quindi ci da una pietra istante Io vi dicevo sempre Pietra istante Sembra che questa zona Sia molto antica Se ti interessa Puoi chiedere alla guida E che di solito Si trovo all'hotel No grazie Non mi interessa In una città Dove non c'è nulla Sapere cosa c'è Comunque Cosa diamine Secondo me Ho per degli extraterrestri Avesse per forza così Cosa Pensate che queste Norni pietre Sono state messe in fila Ben 3000 anni fa Incredibile vero Nessuno in realtà Se ne sa nulla Al mondo ci sono tanti misteri In pratica Le pietre Dunque il percorso 10 Sono disposti In modo da condurre A Cromelburgo Ultimamente anche Nel capo palestra Di Alitropoli Sta indagando su quelle pietre Ma in preciso Non si sa ancora nulla Abbiamo già letto Magari dovrei mettere Questa Perché può servire Uh Team Flare Ascoltami bene Presto Team Flare Triunferà grazie All'instimabile tesoro E al potere Delle pietre Del percorso 10 A questo mondo Vinci il più forte Noi lo faremo con stile Oh sei Tonks Hai visto un'idecora Del Team Flare Da queste parti Sì era qui ma Era qui ma Ora è sparita Da qui non si passa Dove sarà finita Oh che mistero Come non si passa Ci sta qua la strada Va bene Comunque sembra davvero Che in questo posto Non ci sia assolutamente nulla Che schifolicità Qui c'è qualcosa C'è un Oddio Un antico rudere Con un sasso Davanti a una porta metallica Sicuramente Non sarà niente E la regola Non è andata là Mi starei prendendo Per il fond Per il sedere Per il sedere Insomma Dannazione Più che altro Adesso dove dobbiamo andare Ah si è Liberato il passaggio A destra Bene Ok Io mi faccio una fotografia Qua davanti E ci vediamo al prossimo episodio Quindi La faccio qua Oh che bello Che cos'è questa roba Antiche megalitiche A quanto pari Amandano un potere misterioso Lo faccio qua La fotografia Però togliendo il Ok E io vi saluto E ci vediamo al prossimo episodio Di Pokémon Y Quindi alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti